Ciao a tutti e benvenuti a Giallobook, le video recensioni sui libri gialli. Oggi ci vediamo un altro unboxing, il diciottesimo, e in particolare ci vediamo il contenuto di questa busta. Allora, iniziamo con... Il primo libro è lui, l'ho scelto perché parla da solo e poi perché ero molto curioso di leggerlo, anche perché un giallo ambientato nel medioevo non l'avevo ancora portato sul canale, quindi ho scelto lui. E di questo arriverà la recensione. Il secondo è lui. Ho scelto lui perché quando è uscito io non leggevo, poi l'ho sempre lasciato un po' nel dimenticatoio. E ultimamente mi sono deciso a leggere. Mi sono deciso che lo volevo leggere. E quindi anche di lui arriverà la recensione quanto prima. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate, se li avete letti, se vi ispirano, se li comprereste, se vi sono piaciuti. E vi ricordo che se avete dubbi o domande di qualsiasi tipo potete scriverle sotto nei commenti, io risponderò appena possibile. E che se vi piace il video che faccio considerate l'idea di iscrivervi al canale, attivare la campanellina se vi va. E di condividere questo e o altri video, e anche il canale, con i vostri amici, amanti dei libri e non. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao, guaglio! Ciao, ciao!